ciao ragazzi non so se vi sentite al sicuro ma i vostri computer forse non lo sono in questa puntata vi parleremo degli attacchi hacker e della cyber security non sull'italiana ma in tutto il mondo quali sono i settori più colpiti e perché quali sono i dati che vengono presi di ascoltate la puntata fino in fondo ciao ragazzi bentornati a una nuova puntata di on the matters bentornati bentornato matti bentornato a posto tutto a posto direi che siamo nella stessa situazione della settimana scorsa esatto se siamo grande preoccupazione grande incertezza si muovono tante pedine i palazzi crollano sono crollati tanti missili vengono lanciati ho visto un sacco di video su instagram ma vengono prese anche delle posizioni drastiche un po dappertutto in tanti settori da tanti attori internazionali nei confronti proprio della russia internazionali italiani salvini vuole andare in ucraina ha fatto un posto dove dice che sta valutando i processi logistici e tecnici per poter andare sul campo a portare la sua solidarietà cioè in pratica sta guardando quanto costa il biglietto per per l'ucraina sì o se serve un aereo se serve il treno dov'è l'ucraina anche per capire qual è grandicella l'ucraina dai forse la trova se va verso est effettivamente in questo periodo ha sempre portato fortuna salvini sta diventando un po un meme per quello chissà ah sì ha forse che si aveva augurato lunga vita la regina che ha preso il covid e aveva detto sto bene però e poi l'ha preso lui e insomma ok sai perché è rimasto a quel tweet di metà settimana in cui sostanzialmente inneggiava le guerre vere le guerre false degli immigrati insomma un mischione per giustificare che va bene accettare gli ucraini ma non va sempre bene accettare gli immigrati una cosa del genere ucraini sì ma anche se si sta prendo comunque le posizioni dell'immigrazione ma non è quello di cui vogliamo parlare no perché c'è un protagonista in realtà di questa settimana se vogliamo che è un po un attore intangibile no una mano un po nascosto un po segreto esatto vuoi dirlo tu molto cinema anonymous anonymous sembra un film e tutto nasce come un film in realtà perché c'è questo anonymous lo sapete lo sai è questo gruppo di hacker questa associazione di hacker un collettivo un collettivo tipo l'arci che non si sa bene dove vive che cosa fa chi è è un po in tutto il mondo no è un po dappertutto è per questo che è questa questa conflitto ha preso questa connotazione un po globale nel senso che è russia ucraina nessuno stato è ancora intervenuto attivamente ma globalmente lo stato degli hacker si è schierato a favore dell'ucraina contro la russia in particolar modo contro putin con un video spettacolare che sembrava il trailer un po del sequel di vi per vendezza perché poi usano quella maschera che è quella lì un misto matrix degno dei migliori film veramente coinvolgente bello uno di quei film che io guarderei un ultimato ma putin secco gli hanno detto smettila perché altrimenti sai sarai e sei già il nostro primo bersaglio sotto tutti i punti di vista inizieremo a danneggiare i tuoi server i tuoi sistemi e qualche avvertimento gliel'hanno dato non ultimo la settimana scorsa gli hanno hackerato lo yacht fantastico che non è proprio l'ultima delle ma cosa hanno fatto l'hanno guidato in giro ma praticamente gli hanno intanto cambiato il nome se non sbaglio si chiama graceful o una cosa del genere sì e l'hanno chiamato fuck putin una roba del genere con non proprio tutte le lettere per non essere ma l'hanno chiamato in che senso cioè che l'hanno rinominato sulle mappe sui server sui software della navigazione per dire cioè tu cercavi quella la sua barca e ti veniva fuori il nome fuck putin e poi in modo simbolico hanno cambiato la destinazione la posizione del dello yacht che era su un'isola segreta non lo so e hanno cambiato la posizione l'hanno messa come hell quindi all'inferno un viaggio verso l'inferno e l'hanno posizionata se non sbaglio sull'isola dei serpenti che è quell'isola dove quel gruppo di ucraini che ormai è diventato eroe sono diventati degli eroi ha mandato a fare in culo ha mandato a quel paese i soldati russi che stavano sbarcando proprio su quell'isola era e l'hanno posizionato bello simbolico lì sì sì simbolico oltre ad aver hackerato il sistema delle ferrovie oltre ad aver hackerato oltre se non sbaglio 300 siti russi e avvertimenti ma insomma non troppo tra l'altro questa settimana sono stati oscurati di fatto i siti di informazione russa rt tutti quei canali ma un po come se fossero sai le principali testate in realtà lì chiaramente sono testate di regime perché sono controllate a tutti gli effetti dal dal governo mi ha colpito quello delle ferrovie se non sbaglio in biello russia o non era esattamente in russia ma mi ha colpito perché dico se succedesse in italia non ce ne accorgeremmo che ferrovie italiane vengono hackerate e che il sistema è in palla penseremo a un down a una giornata assolutamente regolare dei sciopero del sito delle ferrovie esatto esatto no ma tra l'altro ci sono stati un sacco di proprio così e commerce se vogliamo no quindi al di là dell'aspetto degli hacker c'è l'internet in russia negli ultimi giorni ha subito drastici cambiamenti cioè se per esempio vuoi comprarti i pantaloncini della nike per andare a correre non puoi perché nike ha chiuso l'e-commerce in russia come lei asos adidas c'è un sacco di un sacco di grandissimi global brands hanno deciso di smettere di vendere in russia e poi c'è stato anche quel limite sullo swift dei sistemi di pagamento che ha un po mandato anche in palla sistema dei pagamenti dei russi ho visto delle foto di persone nella metropolitana abituate a pagare con apple pay con carte di credito bloccati obbligati ad utilizzare il contante certo pensa nel 2022 come si combattono le guerre pensa te se poi consideriamo che queste persone si sono ritrovate in tre giorni il cento per cento più povere rispetto al dollaro il rublo è caduto della del 50 per cento è presto fatto che ma infatti secondo me questi sono stati ora ci svestiamo degli abiti di dei nudi geopolitologi e ci mettiamo quelli di strategie militari anche questo secondo me questi sono elementi la parte tecnologica che putin un po aveva sottovalutato secondo me nella sua testa l'invasione dell'ucraina sarebbe finita nel giro di un paio di giorni allora questo hai lanciato un argomento interessantissimo perché qua secondo me può entrare in gioco due cose allora da un lato quello che dici tu cioè lui che aveva sottovalutato l'estraneazione dal mondo globalizzato e dall'altra ti posso dire che forse l'aveva valutata e ha pensato comunque di potere di poterla sfruttare sovrastare e ti spiego secondo me in che modo è del tutto un'idea c'è un racconto però se tu pensi a uno a un regime totalitario cioè i regimi totalitari vivono di censura cioè se tu puoi evitare di dover fare censura perché semplicemente sono gli altri che evitano di raggiungerti da un certo punto di vista tutta la puoi giocare no quindi cosa vuol dire puoi rivenderti magari con qualche fake news o comunque con i tuoi media di cui di fatto sono gli unici di cui dispongono di cui dispone la tua cittadinanza potresti raccontare che appunto nike non vuole più avere a che fare col mercato russo perché si rifiuta perché non capisce perché vuole escludere cioè è facile secondo me per chi ha fatto propaganda fino all'altro ieri continuare a farla raccontando cambiare la narrazione degli eventi lo storytelling di cui parlavamo nell'ultima puntata si si ci può stare però secondo me è un punto di vista ma nella follia di tutto quello che sta accadendo non è poi così lontano certo nella bolla che si è creato probabilmente pensava di riuscire a controllare queste cose utilizzando il popolo cambiandogli l'ideologia attraverso lo storytelling e rivoltando i russi contro il resto del mondo in realtà anche con le manifestazioni che stanno accadendo in varie più di 7 mila della russia abbiamo capito che il popolo russo in realtà non è così malleabile dal punto di vista ideologico c'è anche c'è anche da dire che poi probabilmente uno anche paura non so di essere mandato in siberia o delle ritorsioni politiche di di schierarsi contro putin soprattutto in in russia oltre al resto del mondo c'è anche quel timore no no è assolutamente così c'è da dire però che il tema del lacheraggio insomma il tema del web in generale della fruizione dell'internet è centrale perché siamo in tempi moderni o post moderni ed esce proprio il 15 di marzo a fagiolo un report che ci racconta come sono andati gli attacchi hacker nel 2021 in realtà facendo poi anche un riferimento al triennio di 2018 2021 ma noi abbiamo voluto un po focalizzarci e raccontarvi quello che è avvenuto nel 2021 esatto stiamo parlando del rapporto clusit che è stilato ogni anno ogni sei aggiornato ogni sei mesi dalla associazione italiana per la sicurezza informatica e che appunto ogni sei mesi monitora migliaia e migliaia di casi di attacchi hacker che avvengono nel nostro paese e quindi delinea anche un po quelli che sono i trend sapete che noi siamo appassionati di rapporti dal rapporto census che ci definiva come gli esauriti frustrati pazzi creduloni siamo arrivati al rapporto clusit esatto che però possiamo dire tutto sommato dice sì la situazione è un po peggiorata ma non siamo poi messi così non siamo messi malissimo come italiani no esatto possiamo esserne orgogliosi di questa cosa boh non lo so mi sembra più una casualità nel senso probabilmente siamo anche poco interessanti perché iniziamo subito a snocciolare qualche dato carino allora diciamo che nel 2021 gli attacchi hacker sono cresciuti del 10% e già rispetto al 2020 e già è un dato importante esatto l'Italia torna a crescere come si dice no? torniamo a crescere non solo il pil è cresciuto anche gli attacchi hacker vuol dire che siamo appetibili dal punto di vista dell'attacco della sfida siamo appetibili però il rapporto parte appunto con un overview globale quindi cosa dice di tutti gli attacchi hacker che sono avvenuti nel 2021 quali sono state le zone geografiche più colpite? a livello continentale l'America vince 45% 45% degli attacchi totali quindi chiaramente quello è il focus principale poi entriamo un attimo nello spaccato di cose e chi viene hackerato insomma l'Europa arriva al secondo posto subito dopo l'America perché ci piazziamo con il 21% con il 21% 16% l'anno precedente quindi eccolo qua esatto esatto l'Italia cresce in linea con la crescita l'Africa non se la caga nessuno l'1% degli attacchi hacker la riguarda poverini che cosa attaccano in Africa manca l'infrastruttura da attaccare non c'è internet di attacchi hai anche ragione ecco hai anche ragione vabbè anche l'oceania vabbè anche lì c'è molto in Australia però vabbè comunque se verità che cosa attaccano gli hacker? che cosa piace attaccare agli hacker? qual è il loro punto di riferimento degli attacchi? ci sono gli obiettivi governativi militari e vabbè questo diciamo che poi era prevedibile no? gli attacchi al pentagono eccetera eccetera se ne sentiti tanti nella storia in realtà anche prima del 2021 ricordo il ragazzino che era riuscito a entrare nei server del pentagono cambiarle password e parlavamo di un quindicenne anche perché è molto challenging credo che nell'ambiente hackerare il pentagono ti regali la celebrità e l'esterna fama sono quelle cose sai quel quando fai i business case no? per diventare hacker ti dicono prova ad hackerare il pentagono quanto più vicino tu ci arrivi poi vieni assunto oppure no dalle varie non so associazioni di hacker non lo so non saprei dirti la cosa importante è la qualifica cioè la gravità degli attacchi ok? che è cresciuta tantissimo in realtà perché nel 2021 il 79% degli attacchi che sono stati rilevati hanno avuto una vengono classificati come impatto elevato elevato ok? che è effettivamente tantissimo beh questo si spiega anche per il fatto che l'ingegneria informatica e le competenze degli hacker stanno crescendo sempre di più forse anche grazie al fatto di riunirsi in queste associazioni segrete lo scambio di skills, lo scambio culturale, lo scambio di informazioni e di competenze fa sì che diminuiscono gli attacchi a impatto basso medio mentre invece sono cresciuti moltissimo aumenta il traffico di dati aumenta il furto di fatto e poi di dati sensibili al di là del furto di grano anche perché poi aumentano le tecnologie migliorano le tecnologie e aumentano i dati anche sensibili delle persone che ci si scambia sulla rete quindi aumentano anche le possibilità di hackerare i vari sistemi le fughe di dati, le fughe di notizie assolutamente sì adesso tornando da dove siamo partiti cioè ad Anonymous Anonymous oggi è forse la principale organizzazione di hacker ma in realtà c'è da un botto di anni Anonymous prima decada del 2000 intorno al 2000, 2003 una cosa del genere dove si riunivano questi collettivi su chat e diffondevano messaggi in modo anonimo diventano poi famosi se non sbaglio nel 2008 perché iniziano a identificare degli obiettivi sensibili da attaccare mentre prima erano più delle prove di forza forse in qualche modo in cui cercavano di fare esaltare la propria abilità nel 2008 iniziano a scegliere degli obiettivi sensibili chi è l'obiettivo sensibile? io me lo ricordo Scientology Scientology, in particolare Tom Cruise Tom Cruise è vero di Mission Impossible cos'è che era successo? a proposito di un video che lui aveva pubblicato su YouTube esatto, era forse il periodo in cui Tom Cruise era uscito di testa che era andato anche da Oprah aveva iniziato a saltare sui divani però aveva fatto un video celebrativo in qualche modo di Scientology dove ne esaltava le qualità e i punti forti però era stato un po' troppo sopra le righe per cui YouTube l'aveva censurato e Scientology aveva chiesto di rimuoverlo da tutti i siti rivendicandone la proprietà il copyright tutti i diritti in realtà alcuni blog si erano opposti insomma non l'avevano cancellato Scientology aveva iniziato ad attaccarli e il gruppo Anonymous rivendicando la la censura che Scientology stava andando contro la censura della rete ha mandato dei messaggi chiari con i primi video con questa voce camuffata video bellissimi in stile cinematografico e attacca Scientology e da lì diciamo che il mondo e le persone comuni hanno iniziato a sentire per la prima volta appunto il nome di Anonymous esattamente da quel lontano 2008 in realtà arriviamo al 2021 dove appunto gli attacchi hacker sono aumentati tantissimo e noi potevamo non avere una lista aggiornata dei più recenti ovviamente no ovviamente no ovviamente no e ci sono casi eclatanti famosissimi vai parto io? parti tu Matti ok Ikea nel 2021 esattamente il 26 di novembre è stato attaccato il suo sistema di posta elettronica ad uso interno quindi parliamo di fatto di uso di dati come? con delle mail di phishing il phishing è quella tattica per cui ti arriva l'email da un indirizzo che sembra sicuro che ti dice magari di cliccare su un link esatto quindi di fare un'operazione cosa succede? che cliccando su quel link o facendo quell'operazione il più delle volte ti si blocca ti si blocca al computer piuttosto che ti vengono rubati i dati ti si blocca tutto della tua posta elettronica eccetera eccetera è una cosa molto grave quando poi succede all'interno di intranet ok aziendali cioè di piattaforme per la comunicazione interna aziendale vengono magari rubati anche i dati di dipendenti o le mail esatto il contenuto delle mail che forse a livello poi di gravità è la cosa peggiore compromettente di contenuto è un altro attacco invece vai ci ricordiamo tutti è stato attacca attacca anche perché tra gli obiettivi sensibili privilegiati degli hacker c'è anche la pubblica amministrazione e proprio quest'estate il 30 luglio gli hacker hanno attaccato la regione Lazio ed è stato un caso famoso perché sono entrati nelle piattaforme nelle applicazioni quelle a disposizione dei cittadini per cui con tutti i dati sensibili e le hanno bloccate perché? perché è risaltato sulla cronaca sui giornali perché in quel periodo c'erano le prime prenotazioni per i vaccini quindi il sistema mi ricordo ne avevamo parlato è stato bloccato e quindi si sono bloccati anche tutti i processi di tampone fascicoli del cittadino e prenotazioni di vaccino e tutte queste cose sembra che tutto sia partito proprio da un'email di phishing perché vi ricorderai i preparatissimi dipendenti della regione Lazio la colpa è stata fatta ricadere su un povero funzionario che in smart working sembra che abbia cliccato qualcosa che non dovresse cliccare e quindi da lì poi ha bloccato tutto il sito della regione Lazio ottimo va bene un po' più grave di questo forse è stato invece un attacco dimostrativo che viene definito exploit in termini di qualificazione della tipologia dell'attacco che riguarda poli network cos'è poli network io non lo so esatto adesso siccome l'ho letto lo rileggo ve lo spiego è una piattaforma di finanza decentralizzata la cosiddetta DeFi ovvero quelle piattaforme che consentono l'exchange di valute o di criptovalute senza l'organo centrale ok che non dipendono quindi dalle banche centrali cosa succede è stato fatto questo attacco da Mr. White Hat così è stato nominato e credo che si sia anche dichiarato con questo nome l'hacker che ha trovato una falla nel sistema per dimostrare esplicitamente la vulnerabilità del network e ha rubato 610 milioni di dollari ma però però e dove sono finiti sono stati restituiti a rate ma sono stati restituiti questo perché lo stesso Mr. White Hat avrebbe dichiarato di essere riuscito a dimostrare la vulnerabilità del sistema all'offerta di 50 mila dollari di ricompensa per risolvere la vulnerabilità del problema del sistema lui ha risposto no dategli ai vostri sviluppatori cara azienda cara Poli Network e fate sì che loro possano possano risolvere questo problema e lui ha restituito comunque un hacker filantropo è stato un atto dimostrativo poi raccontata così è quasi un romanzo da capire cosa c'è di vero cosa non c'è di vero fatto sta che sicuramente il fatto è successo il fatto che siano stati rubati 610 milioni di dollari in criptovalute e non criptovalute effettivamente ha smosso un po' ha fatto aprire un attimino gli occhi su quella che poi la sicurezza data dalla blockchain perché la tecnologia della blockchain è quella che sta alla base delle criptovalute se vogliamo gli smart contract cioè quei contratti garantiti dai sistemi informatici che di fatto costituiscono la garanzia massima e lì sono stati un attimino messi in discussione questo per dire che non tutto poi è sicuro come vedete come Matti parla di argomenti altissimi che io non capisco nemmeno dopo il terzo bicchiere di gin tonic invece un attacco che mi ha colpito particolarmente che mi ha toccato nel profondo è una delle aziende che io amo di più che non è ancora sponsor di on the matters ma che è la san carlo per cui ma che lo sarà presto tramezzini food quello che io sono più legato tu sei appassionato di nft io sono appassionato cos'è che è successo hanno rubato le rustichelle quelle buone no beh peggio peggio hanno rischiato di bloccare l'azienda cioè hanno rischiato di mettere a dura prova i rifornimenti miei della mia dispensa scusa no guarda è una cosa incredibile che quando ho saputo mi sono veramente sentito male praticamente sono entrati hanno rubato dei dati hanno rubato dati sensibili dell'azienda bilanci ma anche dati sensibili e personali dei collaboratori dei dipendenti passaporti carte d'identità gli sconti dipendenti magari gli sconti dipendenti ma un sacco di cose ma come sembra vera insomma io sai che ti vengo dietro il tutto ma poi hanno chiesto il riscatto è stato praticamente una rapina con lo stagio questo non si sa non me l'hanno detto anche San Carlo non l'ha detto però hanno chiesto il riscatto e in realtà poi qui c'è stato il colpo di scena perché San Carlo ha detto che ci frega abbiamo il backup e quindi poi tutto si sia risolto in realtà secondo me un riscatto è stato chiesto più che altro per non diffondere questi raccissibili ma certo ma certo poverini vabbè che possiamo dire siamo partiti da argomenti attuali e di assoluta cronaca e siamo arrivati alle patatine e siamo arrivati al rapimento della patatina esatto per chi si fosse collegato solo ora tornate indietro di qualche minuto e capirete tanto siamo su youtube insomma basta spostare quel pallino in basso siamo su youtube siamo su spotify siamo su apple podcast siamo su google podcast siamo ovunque e ovunque ci troverete quindi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata a presto ciao